Buonasera, benvenuti all'appuntamento con le pillole di Fair Play, ultimo appuntamento settimanale, domani infatti sarà il turno di Alberto Terasso con Tantam, oggi siamo di nuovo in città e dobbiamo tornare di nuovo in un luogo che abbiamo già visitato, andremo in via Ronchi e Dintorni, il titolo lo vedete, via Ronchi e Dintorni, ruderi e catapecchie cadenti, ma avremmo dovuto aggiungere, ma per ragione di spazio non lo facciamo, anche foreste amazzoniche perché tra un po' andremo a vedere come si presenta quella zona della città, ma vi faremo vedere e vi dimostreremo come il comune che accusa di incuria e di non aver dato corso all'attività come demolizione o messe in sicurezza le amministrazioni che precedevano quella di Fontanini, in realtà da due anni a questa parte non ha mosso neanche un dito su questa situazione, se non emettere una ordinanza nel giugno del 2020 che vi facciamo vedere tra poco insieme alla nostra inviata Barbara Venuti, noi abbiamo rintracciato anche un articolo del messaggero Veneto di ben due anni fa con delle dichiarazioni di Fontanini e con delle ammissioni da parte di Fontanini di voler regalare ai cittadini di Udino una città non solo pulita ma anche sicura in cui non ci siano palazzi cadenti che possono rappresentare un grave pericolo per chi attraversa quelle strade ma dal punto di vista dell'igiene e della sanità o un pericolo in generale per il quartiere in cui questi abitati, questi ruderi, questi palazzi cadenti insistono. Ci colleghiamo subito con Barbara Venuti perché andiamo in via Ronchi e dunque Barbara ricostruiamo un attimo proprio il percorso di questa ordinanza che è datata a giugno 2020. Io dico soltanto che il Comune con quella ordinanza aveva posto in essere le condizioni entro 60 giorni in mancanza di un intervento da parte dei proprietari per poter intervenire direttamente in danno, poi riparendosi in danno nei confronti del proprietario o dei proprietari perché pare, abbiamo scoperto anche, che i proprietari di questi immobili fatiscenti, cadenti e insicuri dal punto di vista anche dell'igiene, siano la proprietà sia di più persone e non di un solo soggetto. Barbara a te la linea. Buonasera a tutti, siamo venuti, anzi ritornati come ormai siamo soliti ripetere, siamo ritornati su via Ronchi perché, perché come abbiamo già ripetuto la scorsa settimana, qui nell'immobile, insomma stando anche attenti che non vengano giù calcinacci, è esposta un'ordinanza di inagibilità datata 8 giugno 2020 con anche il nome del referente e le eventuali azioni che potevano essere diciamo così intraprese da parte dei proprietari, quindi ricorso al TAR entro 60 giorni e ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni. Direi che sono passati due anni, quindi chi doveva agire forse avrebbe già dovuto farlo e perché noi siamo ritornati qui? Perché abbiamo trovato delle dichiarazioni datate 10 giugno 2020, quindi subito dopo aver, diciamo così, affisso questa ordinanza. Nel frattempo, scusa Francesco, io mi sposto perché è sempre molto poco pratico stare qua dietro. Abbiamo trovato queste dichiarazioni fatte alla stampa. Tu hai questi fogli stampati in mano con le dichiarazioni di Fontanini, noi le facciamo anche vedere mentre leggi, mentre leggi facciamo vedere questi passaggi alla nostra screen, vai. Sì, un'ordinanza firmata dal sindaco Pietro Fontanini che impone ai proprietari di intervenire nell'arco di 60 giorni. Decisione presa a seguito di una serie di sopralluoghi effettuati dalla polizia locale, referente dell'azienda sanitaria, comando dei vigili del fuoco e dopo che molte segnalazioni erano state attivate da parte dei residenti. Non da ultima la signora che la scorsa settimana molto carinamente ci ha fatto andare, entrare a casa sua per mostrare di fatto come estate e inverno si è costretta ad accendere la luce, poiché i fusti che ormai si erigono fronte e finestra non le permettono neppure di vedere la luce del sole, ma anche perché una delle finestre che erano state murate è stata spaccata, quindi probabilmente qualcuno si intrufala o sicuramente il luogo è probabilmente idoneo per attività non proprio lecite, oltre al fatto che ci sono una serie di avanzi indifferenziati. Sì, volevo far vedere anche una cosa perché c'è un particolare che mi è balzato all'occhio adesso leggendo queste dichiarazioni, questo articolo in cui l'ordinanza dice che i proprietari devono intervenire per mettere in sicurezza l'immobile, ma qui si segnala che già nel giugno, l'articolo è del 10 giugno 2020, quindi in pratica due giorni dopo la data dell'ordinanza, in cui si dice che l'immobile ormai ridotto a un rudere, già nel giugno del 2020, era stato transennato per evitare il pedicolo di crogli, era stato transennato, cosa vuol dire Barbara? Che quando il comune ha emanato quella ordinanza, le transenne che abbiamo visto e che sono alle tue spalle probabilmente due anni fa erano già lì, dunque i proprietari non hanno fatto poi nulla, noi non sappiamo chi ha messo quelle transenne lì. esatto, eccole qui. Ecco, guarda le transenne in quali condizioni sono, sono qui ovviamente da due anni, lo si vede anche dalla faticenza della segnaletica che è caduta e si è sbiadita, infatti Carmine, scusa Romano, guarda, è venuta giù la segnaletica, guarda cosa c'è all'interno ovviamente delle transenne, il legno, i ferri sono totalmente arrugginiti, quindi sicuramente queste transenne sono state messe nell'immediato però poi sono anche state dimenticate. Come puoi vedere e come possiamo far rivedere le finestre sono state totalmente murate però come ci faceva notare una residente, una è stata sfondata e sicuramente è diventato un passaggio per qualcuno. I fusti ormai sono diventati così alti che hanno divelto il solaio e questo impedisce ovviamente ai residenti e ai condomini del condominio qui adiacente di poter godere non solo dell'azzurro ma anche della luce, della luce naturale, questo implica ovviamente l'accensione della luce artificiale. Oltre alla pericolosità perché c'è la caduta di calcinacci, parliamo anche di invasione di insetti, invasione di topi, parliamo anche di verde assolutamente invasivo, oltre al fatto che nella parete divisoria del condominio che porta nella zona dei garage e delle autorimesse, per quanto d'estate sia molto bello perché c'è del verde, poi d'inverno è un rudere e con le macchine parcheggiate c'è sempre il timore che qualche calcinaccio possa cadere a terra. Ok Barbara abbiamo parlato di via Ronchi e di intorni perché poi abbiamo scoperto perustando quella zona che non è solo questo palazzo a presentare delle problematiche. Allora mentre tu ti sposti per farci vedere a un minuto, poco più a piedi dal punto dove ti trovi adesso, l'altro luogo che abbiamo individuato come un luogo pieno di sterpaie, una foresta amazzonica in questo caso, dunque sarebbe da aggiungere al titolo ma come detto non l'abbiamo fatto per ragioni di spazio perché sarebbe stato un titolo troppo lungo, siamo limitati a segnalare i rudere e le catapecchie cadenti che abbiamo già visto in parte. Io faccio vedere ancora l'articolo in questione del 10 giugno del quotidiano messaggerio in cui il collega intervistava il sindaco Fontanini che dice ora le cose stanno finalmente cambiando, non è possibile che ci siano degli immobili così abbandonati, nessuno se ne è curato, che rappresentino un problema, un pericolo per le condizioni igienico-sanitarie ma anche per i rischi di parti strutturali, ora le cose stanno cambiando. Ora lo diceva però quando era il 2020, ora per me significa 2022, giugno 2022 quasi, e dunque due anni in cui non è stato fatto assolutamente nulla, nonostante le segnalazioni, i richiami che sono stati fatti attraverso i mail, attraverso contatti vari da parte dei cittadini. Cittadini che ha aggiunto Fontanini nell'intervista rilasciata al collega in quel periodo meritano di vivere in una città non solo pulita ma anche più sicura. La legge mi attribuisce specifiche competenze in materia di gestione delle emergenze sanitarie e di controllo dell'igiene pubblica, competenze che ho già esercitato in occasione di altre demolizioni e all'equario ho intenzione di ricorrere ancora ogni qualvolta sarà necessario. Bene, carissimo sindaco Fontanini, adesso ci aspettiamo che queste competenze le faccia valere anche per questo immobile, visto che aveva l'opportunità di farlo entro 60 giorni, come aveva dichiarato e come era stato scritto sul quotidiano il messaggero nel giugno del 2020, 10 giugno 2020, ricorsi al TAR, ricorsi al Consiglio di Stato, tutto quello che volete, non 60 giorni, 120, va bene, 120, sono 4 mesi, quindi i mesi ne sono passati quasi 24 dal momento in cui è stata emanata quella ordinanza. L'unica demolizione solerte che il dico Fontanini ha fatto nel suo mandato è stata quella di demolire lo store, il vecchio udinese store vicino alle biglietterie perché c'era il problema della vicinanza con il cimitero, ma quella demolizione a un mese dalla disputa dei campionati europei under 21 nella nostra città costò alla comunità diverse miliardi di euro per installare altre baracche temporanee quando si poteva aspettare un mesetto, poi si demoliva l'udinese storico e l'udinese aveva già deciso di demolire autonomamente, ma questo è un altro discorso, mentre le catapecchie e i ruderi non vengono toccate. Ecco, Barbara ha raggiunto il posto del nostro secondo giro di oggi per farvi vedere la foresta amazzonica, a te la linea Barbara dove ti trovi adesso? Eccoci qua, allora siamo in via Vincenzo Manzini che non è altro che una parallela di via Ronchi e siamo sempre nelle parallele di via Lungheria. Allora, circunnavigando la zona la scorsa settimana mi ero imbattuta in quest'altra parte e come potrai vedere il verde ormai ha perso totalmente il controllo e ti ho mandato anche delle immagini più dettagliate. Anche in questo caso c'è un passo carrabile, però come potrai notare diventata area di deposito, questo passo carrabile vedendo dalla vegetazione sicuramente non è utilizzato e lo stesso dicasi di quella che è una rampa, non sappiamo se è accesso ovviamente a questo immobile o altro che sia e questa è la situazione di queste pareti, questa è la situazione del verde e adesso io mi sposto di una decina di metri e ti direi che siamo alla stregua di quello che sta accadendo in via Ronchi dove anche qui è tutto è completamente abbandonato, c'è anche una panchina di cemento quindi non capiamo e non saprei dirti se era uno spazio pubblico o un'area privata. C'è un cancello, ormai ovviamente è totalmente irraggiungibile e inutilizzabile, anche qui è stato bloccato, non ci sono segnaletiche e ordinanze di nessuna natura ma guarda le ortiche a quale altezza sono arrivate, cioè sono più alte di me e ho detto tutto e anche in questo caso ci ritroviamo con delle pareti di confine che sicuramente non versano nelle migliori condizioni. Eh sì, la situazione è davvero di emergenza possiamo dire, per chiudere questo appuntamento che non sarà l'ultimo purtroppo temo su questo tema sia in via Ronchi che in altre zone della città. Cosa possiamo dire Barbara? Che in barba quello che Fontanina ha dichiarato, cioè che i cittadini meritano una città più pulita e più sicura, tutto ciò va alle ortiche, come si suol dire con quelle ortiche che vediamo lì, che crescono liberamente, quindi si manda alle ortiche questo bel principio, sano principio di dare alla città, ai cittadini una città pulita e sicura, ma come abbiamo dimostrato purtroppo non è né sicura e neanche pulita, visti i sacchetti di mondizia che compaiono come funghi la sera un po' dappertutto, soprattutto nelle zone del centro e lo abbiamo più volte documentato. Eccomi, allora volevo chiudere dicendo che per quanto riguarda lo stabile di via Ronchi il referente, l'assessore alla sicurezza Ciani, che tra l'altro aveva dichiarato che se entro 60 giorni i proprietari non avessero provveduto, ovviamente sarebbero state messe in sicurezza anche attraverso la demolizione, ovviamente poi rivalendosi sui proprietari per quanto sarebbe riguardato ovviamente le spese degli interventi. Quindi facciamo un appello all'assessore Ciani se eventualmente ci sa spiegare cosa sta accadendo in questa zona che è densamente abitata e merita attenzione come in tutte le altre zone e quartieri della città soprattutto perché questo verde e queste condizioni non è sinonimo di sicurezza anche perché può accadere assolutamente di tutto, anche in termini di ovviamente insetti, topi e quant'altro e anche come decoro e pulizia. Sicurezza igienico-sanitario. Quindi io vi ringrazio, ci vediamo la prossima settimana con un anticipo Esatto, igienico-sanitario è un anticipo, sicuramente torneremo, anzi andremo personalmente al Parco Moretti per alcune dichiarazioni da parte del titolare del chiosco che vuole occuparsi del recupero e anche di far sì che quel luogo sia un polmone per le famiglie e per i bambini quindi ci diamo appuntamento alla prossima settimana. Francesco, grazie a tutti e buona serata. Grazie Barbara, grazie a Barbara Venuti. Chiudiamo qui questa puntata delle pillole di Fair Play e vi diamo appuntamento alla prossima settimana e seguiteci perché avete ascoltato dalle parole di Barbara Venuti le anticipazioni di ciò che ci occuperemo nella prossima settimana. Arrivederci. Grazie a tutti.